Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi io farò Oh Di già Di già ragazzi Ditemi se nei commenti Questo è bello Ditemi se nei commenti Questo è bello Siamo pronti ragazzi Oh no Si 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 Grazie. Aspettate ragazzi che si è rotto. Eccolo. Che facciamo ora? E' il piperone. No. E' il piperone. E' il piperone. Cazzo. Cazzo. Però se c'era un altro telefono, portati quell'altro. Che c'è? Che facciamo? La Butterfripp Challenge l'abbiamo fatta. Ma però... La Butterfripp Challenge l'abbiamo fatta? Si. Ehm... Lo vedrete nel prossimo video. Che farò un'altra flip challenge. Bye bye. Ciao ragazzi. Oh. Non si... Non si conclude. Ma la prima parte. Malca pagare il referendum.